Bella a tutti raga, qua Fabio, sono con Andrea a casa mia che mi ha prestato il pad perché mi si è rotto. Bella, bella, siamo su, dove cazzo è la mappa? Andrea sarebbe salva, solo che ho cambiato nome, quindi, boh, ho un nuovo nome, JGS Sandra. Bellissimo il nome, ah qua dovevo fatto la serie di 12 di fila, pure in frenesia ero, avevamo tutto il team, io, mio cugino, Michele, altri miei amici. Tutto il team. E già eravamo tutti e sei contro altri sei, li avevamo devastati. Poi farò, farò vedere anche le nuove modalità Blitz, che è la nuova modalità che hanno aggiunto, poi anche Salvataggio che è, è un cerchio di sorgi modificato. Comunque, mettiamo adesso, questo è un po' da nabbo, si vede, però va bene. Il mirino è un po' da nabbo, eh. Un peccato che non ci sia il cinema. Eh già, l'unica cosa che manca. Guardate il mirino, è l'individuo, ti fa vedere i nemici con il contorno arancione. Guarda. Che cazzo? Però non vedi quello che ti sento là. Guarda questa modalità. Io andavo in giro in continuo, quella partita non aveva del video. Con questa l'ho fatta, lo sai? Continuando ad andare in giro, mi hanno ucciso a destra. Mi prendavo dall'altra parte. E' un po' da nabbo, è un po' da nabbo. E' fatta, già. No, cazzo, 20 secondi, troviamo il nemico. Non è... Lug. Lug. Non voglio vederla questa. Vabbè. Questa mi sembra la Scorpion, è la Scorpion? No, è la Rix, mi pare. È uguale. Eh, c'è la nemico, eh. Oh, cazzo. Dietro mi sembra. Ancora. Due, due, due. Non l'ho colpito. Se c'erava l'altro dietro, erano in... Eh, vedi. Vedi. Ti ha preso in testa. Aspetta, vuoi provare la... C'è il mirino laser, questo. C'è, c'è il laser. Incorporato. Le altre armi non ce l'hanno. Ok. Su, cammelo. Oh, cammelo. Ma, da, ma che mira di merda. Mi trovo scomodo con sto joystick per gli analogici, non so, vu? Eh, cosa cambia, scusa? C'è, lo schiaccio con più... Che cazzo è sta roba? Ah, l'arma che avete prima. Sembra il Pipino, va? Spera, infatti, il Pipino, va a termine uno. No. Ma sono da tutte le parti. Guarda quello. 5, 8, schizzo. C'era uno qua, però è da sopra. Penso l'abbiano ammazzato. Non ce la mia oggi, cazzo. È la Vada, che secondo me... Sarà l'unica cosa che mi creerà più problemi. Non è così, va. Mi trovo bene con questo Rada. Sarà lenta, ma almeno un po' più precisa. Cosa? La sensibilità. Dove cazzo... Guarda che camper! Poi non mi devo incazzare! Figlio di putt. C'è già, eh? Neanche una settimana. Ma ce l'ha già il primo giorno. Mostra, corre! Non mi ammassi, cecchino di merda. Ma figli di trova, allora... C'è un nemico, lo cari della roba. Stesse di pisello. Mi sembra ci metto cent'anni a girare la visuale con questo. Ecco il Capcom, nemico. Sare, sì, Capcom. SACCOM! Da dietro, andavo uno davanti a uno di... C'è chi ti ha quiccato? No. Vabbè, mi toglie il replay, io lo volevo vedere. Fai un'altra? Eh sì, guarda molto durata. Bossi. 8.12. Mi so abbassano tutto il ratio. Tra un po' arrivo a recuperare uno dei molti. Ero a 100 di differenza, vabbè. Vabbè, oh, cioè... Andiamo. Dove cazzo sono? Uccisioni? Perché... Io dove sono? 20-40, lol. 20-40, Andrea. 20-40, io. Io ho fatto 1029. Non ho fatto la serie 5. Guarda, sto recuperando tutte. 1.4 o 1.17, prima. No, ragazzi, io... Guardate, dai, che... Quello, intanto, è il mio ID online. Dico solo che... JGS, 2, NDR, c'è un po'. Prima che mi... Prima che mi abituo a giocare, cazzo. E' anche un altro code, questo, eh. E' diverso anche da VO2. Cioè, soprattutto, è cambiato un casino. Mi ci devo abituare un po'. Noi ho preso i 20 punti, che volevo comparare il mio Vector. Flori. Cioè, in teoria dovrei aspettare un po' ancora. Noi lo salutiamo FabioC98, che è online. Tanto non fa qualcosa. In Blitz, entra nella zona obiettiva del nemico, quando è attiva, per segnare punti per la tua squadra. Infatti, io volevo fare un video, poi, su Blitz. Solo che, al momento, non ho il pen. Vabbè. Sti cazzi. Spacchi sempre i joystick, vabbè. Ma cosa? Spacco sempre i joystick, che stavo giocando normalmente con Marcello, tutto ad un tratto. Eh? No, che c'è il mio video. Dove sei in un affogno? No, no. Il parcheggio. È il parcheggio. È troppo figa sta mappone, c'è un botto. È finito il troio, vedete. No. Porca troio, non posso più risalire. Dietro. No, per sopra, sopra. Quanto odio le sordenti, minchia. Ma che cazzo? Vabbè. Va a chiudere. Ok, dove cazzo? No, non ci... Che coglione. Cioè, ma uno più stupido di che guardate. Non ci credo. Vabbè. Questo è un troll. No, l'avevo visto, ha la sensibilità troppo bassa. C'è il Nektor. Non questo. L'ho usato all'inizio, alla prima partita, quando abbiamo fatto il gameplay. 5 secondi, non ho detto. No, no. Stato con nemico. Ahia, esplodi. No, ho fatto i 2 marker, porca puttana. Assist, adesso non lo dà l'assist. Se ti dà l'assist, ti aumenta il tempo. Come se l'avessi chillato. Super, vai. E' quello lì, il bau bau. Tra, hai visto quanti punti ho andato? Quanti? 10. Non sono ne bene, per niente bene oggi. Non ci sono le giornate, no? Ma da dove cazzo mi sparano? Tu farai anche una video su B2. No. Hai caricato l'altro? Addio B2. Vabbè, tipo... No, stava bene, a parte che prenderà la Play 4. Appunto, quindi B2 non uscirà su 4, penso. No. Comunque è vero, secondo me sta mal... Su sto gioco devi continuare a correre all'infinito. 10 secondi. Pronti. Come? No, hai visto? 5 secondi alla riconosce. Bella. Qua ce n'è uno. Ma vaffanculo. Minchia, mi ha fatto cagare sotto questo. Cosa, l'entrata? Sì. Su, cagli. Quanto sono? Ma 4. C'è 5, sei un positivo. Sono 4 di fila. Vai. Non è che dura poco, sembra. Buona. Ah, è specialista. Già, in tutte le classi, l'ho detto. Ah, l'acqua ti muori, con l'acqua muori. No. Sono mega... Cioè, sono affogato. Ho affogato, vaffanculo. Ma poi, bene. Quella è mappa, che cazzo è difficile, no? Che iniziamo? Ora, quanti cazzo di colpi è già sprecato. Ma dove cazzo si può? Il compagno. Vabbè, si diverte. Mongolo, guarda che angolo. L'avevi visto? Sì. Di è... No, ma è una colorante da... Lo che puntavi. Sì. Lui ritrovi all'SC 2010. Corri. Ma che cazzo vedo? Ma... 12. Sì, basta. Siamo 84. No! Guarda. Ma vuoi rifarie? Eh. Epic fail. 8-8 per... Sì. Sì, ok. Non cazzo. No, se non sbaglio, ho... le perche... o le fieste. Vai! Sì. Le valide al cazzo Pronte Bella Bella 96 kg è finita Gioco di prestigio Posso ricaricare il merc mentre corro No Buon finita qua Ho fatto un 13-8 Ho recuperato Poi gli emblemi che sai tu Come più due Adesso ti faccio vedere Buon finita qua 13-8 Un saluto da Fabcane Tutto bella raga Bella Bella